La nostra penisola sta attraversando un'intensa fase di maltempo con pochi precedenti nella storia recente. Abruzzo Meteo nel bollettino delle ore 16 segnala emergenza neve soprattutto nel Terramano e Pescarese. Le nevicate continueranno a gravare sull'intero territorio regionale. Nelle prossime ore diffuse ed abbondanti precipitazioni interesseranno il Chietino ma soprattutto ancora il territorio delle province di Terramo e Pescara con notevoli accumuli di neve al suolo anche lungo la costa. Dagli ultimi aggiornamenti emerge come la situazione attuale possa protrarsi fino a notte. Domani è probabile una graduale attenuazione delle precipitazioni ma potrebbe trattarsi solamente di un temporaneo miglioramento. Ci saranno nuove nevicate nella giornata di domenica anche se probabilmente meno intense di quelle in atto in queste ore.